Fiat 2003 Coupé, disegnata da Sergio Sartorelli per la carrozzeria Ghia. Pensate che Sergio Sartorelli è lo stesso signore che ha disegnato la 126. Montava un motore a 6 cilindri in linea e aveva anche il telaio a scocca portante. Le vetture erano tutte principalmente a 4 marce con la possibilità di inserire l'overdrive, mentre nella versione S, quella più potente, il motore prendeva aria grazie a due carburatori doppio corpo, il che gli permetteva di arrivare a qualcosa come ai 150 CV e a raggiungere la discreta velocità di 190 km all'ora. Se fuori era uno splendore, dentro non era da meno. Pensate che tra la lista degli optional potevate scegliere l'aria condizionata, gli interni in panno e addirittura potevate avere i finestrini elettrici. Lo so sprenato. Oggi se ne volete una bella, per di più S, dovete preparare un bel sacchetto di pane con dentro almeno 30.000 euro.